Ho conosciuto il gruppo Formula anni fa quando ho assistito un mio cliente nell'installazione del pacchetto per la predisposizione del bilancio consolidato. Da quel momento ho potuto valutare la capacità del gruppo di assistere il cliente in una soluzione a più ampio raggio e in effetti nel momento in cui altri miei clienti si sono approcciati alla problematica del bilancio consolidato, ho sempre sottoposto la soluzione gruppo Formula ora Talenzia per un passaggio sia dei precedenti pacchetti che all'introduzione invece di un software specifico per la redazione del bilancio consolidato. Le validità di questo strumento sono sicuramente la semplicità nella modulazione rispetto alle esigenze del cliente e la possibilità poi di esportare e importare i dati da Excel favorendo quindi anche l'utilizzo di reportistiche già presenti in azienda. Credo certo che la maggiore utilità sia proprio il confronto, la possibilità di confrontare esperienze diverse di aziende completamente differenti per dimensione, per storia, per problematica e quindi per far capire che questi tipi di applicativi sono utilizzabili sia dalla grande azienda che fa centinaia di milioni di euro di fatturato che per l'azienda di medie dimensioni che ha comunque necessità di reportistiche ma anche esigenze di budget e di investimento più contenute.